La scorsa settimana vi abbiamo raccontato una parte del mondo coppia, vi abbiamo mostrato come un supermercato può sembrare una banca. Ora fate attenzione al marchio. Stesso marchio all'ingresso, sui prodotti, alle casse, ma è lo stesso anche su questo banco, ma così come in questo ufficio dedicato alla sottoscrizione di prestito sociale. Il prezzo di deposito a risparmio è praticamente una forma di risparmio. E' come una banca? Esatto. Si vuole fare sempre? E' il banco, ma per questo è sempre in persona anche quando è chiuso. L'inchiesta vi voleva raccontare come le coppia raccolgono i soldi dei loro soci. Da 0 a 5 mila prenderà questo tasso, da 5 mila a 15 mila questo. E cosa è successo ai 17 mila risparmiatori in Friuli. Oggi ci spingeremo oltre, per capire se i risparmiatori che temono di aver perso i loro soldi hanno ragione e se l'attività di prestito delle copp costituisce o meno un reato. Ma torniamo al nostro ufficio libretti. Vedete quella porta? Siamo all'interno del supermercato. Qui è dalla prospettiva opposta. Dopo questo servizio, la Copp ci ha mandato questa lettera. Si dice che il servizio è denigratorio e che aver fatto vedere il marchio Copp non è giustificato. A voi valutare. Ma seguiteci fino in fondo, perché in questi giorni la vicenda è andata avanti e ha assunto toni sempre più preoccupanti. Questa è la conferenza nazionale delle copp che si è chiusa oggi a Roma. Tra i giornalisti, Giorgio Meletti, del Fatto Quotidiano. E' lui, un anno fa, a scoprire che le copp fanno da banca. Guardando i bilanci delle grandi cooperative del consumo, quelle che gestiscono i supermercati col marchio Copp, vedo che raccolgono prestito dai soci per quasi 11 miliardi di euro. E mi sembra una roba strana, perché in genere il prestito che un socio fa alla società di cui è socio è capitale investito a rischio, come tutto il capitale. Invece qui viene raccolto con dei libretti come fossero libretti postali, libretti di risparmio, come fosse risparmio a vista. Cioè, praticamente con una funzione che è alternativa a quella della banca. Senza avere l'autorizzazione della Banca d'Italia, senza assoggettarsi alla vigilanza della Banca d'Italia e soprattutto senza aderire al fondo di garanzia sui depositi. Semplicemente lo ha fatto evitando di chiamare questa cosa banca. Subito dopo, l'associazione di consumatori Adusbef fa un esposto alla Banca d'Italia. Ma i dubbi sollevati restano nell'aria. Dopo un anno la doccia è gelata. I risparmiatori di Trieste scoprono di non poter incassare i loro soldi. Ci sono tutte le condizioni per salvare la situazione. Ci sono tutte le condizioni per coprire interamente il prestito sociale. Ma chi dovrebbe salvare quei risparmiatori? La Cop Nord-Est non rassicura affatto. Quindi vorrei chiarire per i risparmiatori e per il pubblico in generale che non è che Cop Nord-Est mette i suoi soldi per rimborsare i risparmiatori di cop operaie. Giusto? No, Cop Nord-Est mette i propri soldi sugli avviamenti dei punti vendita a cui siamo interessati, sugli immobili dei punti vendita a cui siamo interessati all'interno del percorso della procedura. Paola Catabiani mi ha appena spiegato che loro non prevedono di risarciare i risparmiatori che sono gli utili. Ma chi restituisce? Non è il commissario quando fa la liquidazione. Ma loro sono gli ultimi risparmiatori, quindi è improbabile che ricevano dei soldi. Ma no, ma perché non conosci i numeri? I primi a essere rimborsati saranno gli istituti previdenziali, i dipendenti, poi il fisco, poi i creditori e per ultimo si avanza qualcosa ai risparmiatori, giusto? Sì, però insomma da quel che appara a noi dovrebbero essere, io però non sono in grado di sbilanciarmi in nessun modo, sono percentuali di soddisfazione anche per i prestatori, però ripeto questo non è un mestiere, ma siamo sicuri che l'attività di prestiti della Coop in Italia sia in regola? Non è che rischio qualche cosa? No, teoricamente non rischiamo anche praticamente, non c'è nulla da rischiare. Questo è raccolta a vista? Questa è l'operatrice che utilizza gli argomenti che sono sbagliati. L'impiegata della Coop non è la sola a confondersi, scopriamo che nei rapporti nazionali delle Coop si parla proprio di depositi a vista. E cosa ne pensa di questo deposito a vista alla Banca d'Italia? Lo abbiamo chiesto inviando questo documento. La risposta data al virus, nero su bianco, parla di esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico. Parla anche di reato penale. E dice anche che sebbene la Banca d'Italia non possa investigare, intervenire o sanzionare, quest'anno due segnalazioni sono state girate da Banca Italia a magistratura e forze di polizia.